Le anticipazioni per il fine settimana del 2 e 3 dicembre Terra Amara. Saranno giornate intense, caratterizzate dalla prematura scomparsa di un personaggio chiave e dall'imprevista fuga di Zuleia. Durante questo weekend, la trama si sviluppa in modo sorprendente. Dopo aver seppellito il corpo di un bandito, Zuleia ritorna alla villa, sconvolta e preoccupata. In preda al panico, chiama le forze dell'ordine, raccontando di un assalto da parte di un gruppo di ladri. Nel frattempo, Mushgan si trova nel cottage di Lutfi, visibilmente turbata. Viene interrotta dall'arrivo di Fekeli e Mushgan gli chiede se ha trovato Fikret. Fekeli ammette di non essere riuscita a trovarlo e ipotizza che sia fuggito. Tuttavia, una telefonata improvvisa rompe il silenzio. È Lutfi che chiede a Fekeli di recarsi immediatamente in caserma, dove si trova Fikret. La scena si sposta poi alla villa Yaman, dove il comandante inizia un interrogatorio. Zuleia e Sevda sono sconcertate e impaurite dagli eventi recenti. Sevda racconta la dinamica degli eventi, omettendo di aver sparato a un uomo, e Zuleia conferma la sua versione. Il comandante, tuttavia, appare scettico e procede ad interrogare i domestici della villa. Verso la fine dell'interrogatorio, il comandante chiede a Zuleia se ha qualche sospetto. Senza esitare, lei accusa Fikret, noto per aver già tentato di nuocere la famiglia Yaman, suggerendo che dietro l'assalto Chi sia la sua mano. La narrazione si sposta in gendarmeria, dove la tensione sale. Fikret entra nella stanza per la sua deposizione, svelando dettagli cruciali. Ammette che Demir Yaman non è coinvolto nell'incidente occorso a Umit. Rivela di aver discusso con Umit, che durante una discussione accesa con un lui, ha perso l'equilibrio e è caduta dalle scale. Il poliziotto, incuriosito, indaga sul motivo per cui Fikret non ha prestato soccorso. Fikret confessa di essere stato sopraffatto dalla paura, pensando che Umit fosse morta, e per questo non ha agito. Questo colpo di scena scaggiona Demir, ma la tensione rimane alta. All'esterno della stanza, Lutfi appare pensierosa e preoccupata per il nipote. Viene raggiunta da Fekeli, che insieme a Lutfi discute la situazione. Lutfi, con un tono chiaro, afferma che Fikret non è coinvolto nell'incidente di Umit, ma è stato un mero incidente domestico. Fikret esce dalla stanza. I suoi occhi rivelano un misto di preoccupazione e dispiacere. Proprio in quel momento, il procuratore irrompe nella scena con notizie sconvolgenti. Nonostante la deposizione di Fikret, quest'ultimo deve comunque andare in carcere. Sono previste udienze per un altro reato commesso da Fikret, non collegato all'incidente di Umit. Fekeli si oppone vehementemente, sottolineando che Fikret ha ammesso il suo errore e dovrebbe essere trattato con clemenza. Tuttavia, il procuratore rivela che c'è una denuncia pendente contro Fikret per un reato non rivelato, aggiungendo un ulteriore strato di mistero e suspense alla trama. Il giorno successivo regala una svolta in attesa, la scarcerazione di Demir Yaman. La scena si apre con Zuleyha, che con un sorriso radioso accoglie Demir davanti al carcere, esprimendo la sua gioia nel rivederlo. Tornano insieme alla villa Yaman, un simbolo di ritrovata serenità. Tuttavia, la tranquillità è di breve durata. La trama si intreccia nuovamente nell'ufficio del procuratore, dove emergono nuovi interrogativi sul perché Fikret rimanga incarcerato. Fekeli ribadisce l'innocenza di Fikret, sottolineando come abbia ammesso le sue colpe. Il procuratore, però, svela un dettaglio cruciale. La vera ragione dell'arresto di Fikret è una denuncia da parte di Zuleyha Yaman, legata a un furto avvenuto la sera prima alla villa. Fekeli e i presenti sono sconcertati e increduli all'idea che Fikret possa essere coinvolto in un crimine del genere. In una scena emotivamente intensa, vediamo Fekeli e Lutfie visitare Fikret in carcere. Fikret, disperato, chiede spiegazioni sulla sua detenzione. Lutfie, con esitazione, rivela che la villa Yaman è stata assaltata da ladroni, e lei sospetta di Fikret. Fikret, indignato, ribatte sostenendo la sua innocenza, argomentando che se avesse voluto nuocere a Demir, non avrebbe mai testimoniato a suo favore. Fekeli, testimone di questa conversazione, si trova di fronte a un bivio morale, credere a Zuleyha o a Fikret. La scena si chiude con un momento significativo. Fekeli, guardando Fikret negli occhi, afferma con convinzione che d'ora in poi crederà sempre in lui, evidenziando una lealtà forgiata dagli eventi recenti. Villa Yaman, testimone di segreti sepolti e passioni ardenti, attende Demir. Lui attraversa il cancello con ansia mista a risolutezza. Ad attenderlo, però, è un quadro da incubo. La villa, un tempo fiore all'occhiello di eleganza e potere, ora si presenta come un ammasso di rovine ed esolazione. «Che catastrofe si è abbattuta qui!» esclama Demir, la voce vibrante di un'emozione che sfiora la disperazione. Zuleia, avvolta in un velo di mistero e apprensione. «Ti spiegherò tutto, ma solo all'interno?» risponde lei, la voce un sussurro appena percettibile. Ma Demir, divorato dall'impazienza, non può attendere nemmeno un istante di più. Gli operai, silenti testimoni di quella notte di terrore, si avvicinano con passo incerto. Gaffir, gli occhi specchi di paura e stupore, narra di una banda di uomini armati che ha preso d'assalto la villa, lasciando dietro di sé solo distruzione e terrore. Rashid, la voce tremante sotto il peso delle rivelazioni, aggiunge che questi malintenzionati hanno sopraffatto le guardie, imprigionato gli operai e minacciato di incenerire ogni cosa. Demir, il cuore in gola per l'angoscia di ciò che sarebbe potuto succedere ai suoi cari, interroga Zuleya sulla sorte della loro famiglia. Sevda, con un sospiro che sa di miracolo, lo tranquillizza. Tutti sono salvi. Gli assalitori erano in cerca di bottino, non di vittime. In un clima di sospetti e tensioni crescenti, la figura di Demir emerge, i suoi occhi scintillanti di una furia incontenibile. Egli è convinto, nel profondo del suo essere, che dietro quella brutale devastazione ci sia la mano di Fikret. Zuleya, con un cenno d'assenso, rivela di aver già mosso i passi legali e aver sporto denuncia. Ma Demir, con una determinazione che vibra come un giuramento, promette che farà scontare a Fikret ogni frammento di quella distruzione. La scena si sposta su Mushgan, mentre varca la soglia della stanza di Umit, un tempo luogo di amicizia e fiducia, ora carico di tensione e sentimenti inespressi. Con tono deciso, Mushgan inizia a esprimere il suo sdegno per le azioni di Umit. Quest'ultima, sorpresa e indifensiva, tenta di discernere le radici di tale amarezza. Mushgan non temporeggia, è lì per smascherare la verità. Evoca i giorni della loro sfida professionale e come Umit abbia guadagnato la sua fiducia solo per trascinarla nei suoi intricati piani. «Mi hai tradita, Umit», incrimina Mushgan, con ogni parola impregnata di significato. Umit, lottando per mantenere la compostezza, respinge le accuse, affermando di non aver mai coinvolto Mushgan nei suoi piani e che la loro collaborazione con Fikret era una scelta personale di Mushgan. Tuttavia, Mushgan non è lì per sentire scuse. Richiama il momento in cui interrogò Umit sulla sua relazione con Fikret e come Umit le mentisca altramente. «Perché, Umit? Perché hai giocato con me?», indaga Mushgan, cercando verità. Umit, con un distacco glaciale, si sottrae a fornire risposte, affermando che i problemi di Mushgan non la riguardano. Muigan, con una fermezza inalterabile, accusa Umit di averla manipolata e di aver abusato della sua fiducia. «Sei una menzognera, Umit!», dichiara mentre la tensione tra loro raggiunge vette esasperanti. Mushgan, con un risentimento che ribolle sotto la superficie, affronta Umit per le sue azioni passate. «Come osi parlarmi in questo modo?», replica Umit la voce tremante di indignazione. «Ma Mushgan non si lascia intimidire. Meriti ogni accusa», risponde, la voce affilata come una lama. Umit, cercando di infliggere un colpo più profondo, rimprovera Mushgan per essere stata dura con Zuleya e Ilmas. «Ma Mushgan, con un furore che esplode, la zittisce. Avevo le mie ragioni», afferma, la voce saturata di passione. «Ho agito per amore, per dare un padre a mio figlio. Tu, invece, sei senza scuse». La scena si sposta, infine, nel cuore solitario dell'ufficio di Mushgan. Qui, in un momento di introspezione, decide di contattare Zuleya. «Devo dirti qualcosa di importante», esordisce, la voce intrisa di un'urgenza impellente. Zuleya, già oppressa da mille preoccupazioni, tituba. «Non ora, Mushgan, ti prego». Ma Mushgan insiste, enfatizzando l'importanza cruciale del loro incontro. Quando Mushgan e Zuleya finalmente si incontrano, Mushgan mostra un lato di sé che nessuno avrebbe mai previsto. Con un animo gravato di pentimenti, offre a Zuleya le sue scuse più profonde, le parole vibranti di rimorso. «Se solo potessi tornare indietro, cambierei tutto», ammette con uno sguardo trasparente di sincerità. Zuleya, da prima sorpresa e diffidente, indaga sulle ragioni di questo improvviso cambiamento. Mushgan, con una serietà che pesa nell'aria, svela che c'è qualcosa di molto più grave e pericoloso in ballo. Qualcosa che Zuleya deve assolutamente sapere. Con una voce carica di preoccupazione, Mushgan mette in guardia Zuleya dal pericolo che Umit rappresenta per la sua vita. «Umit è come un'ombra che si muove silenziosa nella tua esistenza, pronta a rovinare ogni tuo momento di gioia», rivela il timbro della voce vibrante di allarme. Zuleya, con un'espressione di sfida, replica di essere già a conoscenza delle macchinazioni di Umit e Fikret contro Demir. Tuttavia, Mushgan insiste, svelando che c'è molto di più. «Non sono qui solo per parlarti di complotti», afferma, «ma per metterti in guardia su una verità che lega Demir a Umit. Lo faccio per il tuo bene, per salvaguardare la tua felicità e il tuo matrimonio». Zuleya tra la rabbia e la delusione accusa Mushgan di non essere cambiata, di cercare ancora di ferirla. Mushgan, tuttavia, nega con forza, affermando che le sue intenzioni sono pure e sincere. In un gesto sorprendente, Mushgan estrae una fotografia dalla sua borsa e la pone nelle mani di Zuleya. «Questa immagine parlerà per me», dice, le parole intrise di significato. Zuleya, tra curiosità e apprensione, osserva la foto. Demir e Umit, immortalati in un abbraccio intimo e privato. Zuleya, turbata ma risoluta, affronta Mushgan. «Credi di sconvolgermi con queste foto?», chiede, la voce carica di emozione. Mushgan, perplessa, insiste sulla veridicità dell'immagine. Ma Zuleya, con una forza che la sorprende persino lei stessa, rivela di essere già al corrente della relazione passata tra Demir e Umit, un capitolo chiuso della loro vita. Mushgan, scossa, chiede se Zuleya abbia realmente perdonato Demir. Zuleya, con un sorriso amaro sulle labbra, conferma, spiegando che tutto si è svolto in un periodo buio, dopo la morte di Ilmas, quando lei e Demir erano ancora lontani l'uno dall'altra. Zuleya, in bilico tra la delusione e una speranza vacillante, si confronta con Mushgan. «Perché persisti nel tormentarmi?», interroga. «Non è forse giunto il momento per te di guardare avanti e trovare la tua felicità, anziché cercare di minare la mia?» Mushgan, con un tono improntato a genuina preoccupazione, risponde «Non è mia intenzione infastidirti, Zuleya. Il mio scopo è solo avvertirti. Demir potrà essere pentito e aver chiesto scusa, ma temo che Umit non si rassegnerà a perderlo. Ho il timore che non vi lasci in pace». Colpita da queste parole, Zuleya affissa Mushgan con uno sguardo rinnovato. «Se le tue intenzioni sono veramente quelle di aiutarmi, allora ti sono grata», afferma, la voce incerta vibrante di dubbi e indecisioni. Mushgan, con un sorriso intriso di malinconia, le augura tutto il bene e si allontana lentamente. Zuleya, rimasta sola, si abbandona a un pianto silenzioso, fissando la foto in mano, un'immagine che ritrae il tradimento di Demir. Demir, in uno stato di rabbia e confusione, si reca in carcere per confrontarsi con Fikret. Invece di ringraziarlo per averlo scagionato, Demir lo accusa dell'attacco alla villa. Fikret, con una vehemenza sorprendente, nega categoricamente, sostenendo che non avrebbe mai testimoniato a favore di Demir se avesse avuto intenzioni ostili. Rivela poi una sconcertante verità. Nei giorni precedenti è stato sequestrato da Zuleya, che intendeva estorcergli informazioni. Demir, sconvolto, lascia la prigione e incontra Zuleya per strada. Quando la confronta con le accuse di Fikret, Zuleya ammette tutto, giustificando le sue azioni come un tentativo di proteggere Demir. Questa rivelazione culmina in un abbraccio commovente tra i due. La narrazione si sposta poi a Villa Yaman. Qui, un uomo misterioso si presenta a Gaffur, chiedendo lavoro. Attraverso un gioco di parole lusinghiere e promesse, convince Gaffur a assumerlo, promettendogli un terzo dello stipendio. Ma Gaffur, astuto, alza la posta chiedendo metà dello stipendio, che l'uomo accetta. Si scoprirà che questo uomo è stato testimone dell'occultamento del corpo ucciso da Zuleya. In un altro sviluppo, Fikret viene rilasciato dalla prigione, grazie all'intervento del suo avvocato e alla mancanza di prove concrete del suo coinvolgimento nell'attacco a Villa Yaman. La scena cambia nuovamente, spostandosi nel cottage di Lutfie. Qui, Nazirea ha preparato la cena e Mushgan la accompagna, quando Lutfie entra, seguita da Fekeli e Fikret. L'atmosfera è tesa, specialmente tra Fikret e Mushgan, i cui sguardi gelidi rivelano una forte tensione sottostante. Dopo cena, si spostano in giardino, dove avviene un confronto acceso. Mushgan, delusa dal comportamento di Fikret, esprime il suo disgusto, specialmente per il fatto che Fikret le abbia nascosto il suo legame con Umit. Fikret, amareggiato, cerca di spiegarle il suo amore profondo, ma Mushgan, in lacrime, se ne va, chiudendo definitivamente la loro relazione. Con l'alba a Villa Yaman, l'atmosfera è densa di tensione. Sevda rimane profondamente turbata dall'assalto dei briganti, mentre Zuleya appare pensierosa e sospettosa nei confronti di Demir. La quiete della colazione è interrotta dall'arrivo precipitoso di Gaffur, che annuncia la scarcerazione di Fikret a causa della mancanza di prove sull'assalto alla villa. Demir, accecato dalla rabbia, si precipita fuori casa, con Zuleya che lo implora disperatamente di non commettere sciocchezze. La narrazione si sposta nell'ufficio del procuratore, dove Demir irrompe esigendo spiegazioni sulla scarcerazione di Fikret. Il procuratore, visibilmente infastidito, ribadisce che senza prove concrete non è possibile detenere una persona. In una svolta inaspettata la scena cambia, mostrando i gioielli di Hunker in mano a un uomo misterioso, che poco dopo incontra Fikret. In un gesto di ringraziamento, Fikret consegna all'uomo una busta piena di soldi. Nel frattempo, Mujgan è nel suo studio, raggiunta da un collega di Istanbul. L'uomo le propone un'opportunità di carriera a Istanbul come responsabile del reparto di pediatria. Mujgan sembra inizialmente rifiutare, citando il benessere a Ciukorova e la necessità di prendersi cura del suo piccolo figlio, ma il collega persiste, suggerendo la possibilità di lavorare in regime privato per avere più tempo con il figlio. Prima di andarsene, l'uomo le lascia un biglietto da visita, nel caso cambiasse idea. Segue un'intensa scena tra Gulten e Zuleya. Gulten, avvertendo che qualcosa non va, interroga Zuleya, che le mostra una foto incriminante. Gulten confessa di aver assistito a una scena ambigua tra Demir e Umit, ma di non aver detto nulla seguendo il consiglio di Sevda e Shetin, che temevano di scatenare uno scandalo. Questa rivelazione lascia Zuleya profondamente ferita e incapace di fidarsi di Demir, aggiungendo un altro strato di conflitto emotivo e drammatico alla storia. La scena si apre nell'elegante salotto di Villa Yaman, dove Sermin, con uno sguardo scrutatore e penetrante, interroga Fadik sulle tracce di Sevda e Zuleya. Con una prontezza quasi sorprendente, Fadik rivela che Sevda è confinata nella sua stanza, mentre Zuleya è misteriosamente assente. Dopo aver incaricato Fadik di preparare un caffè profumato e aromatico, Sermin si dirige con passo deciso verso il telefono, determinata a contattare Fusun. Ma, sollevando la cornetta, viene colpita da un flusso di parole tra Sevda e Umit. Il loro dialogo è un torrente di rivelazioni, con la dottoressa che implora Sevda di lasciarla in pace. Sermin, sconvolta e quasi paralizzata dall'inaspettato scambio di parole, rimane immobile, come pietrificata. E proprio in quel momento, Zuleya fa il suo ingresso. La presenza improvvisa di Zuleya fa sobbalzare Sermin, che ancora sotto shock balbetta una scusa, dicendo di aver tentato in vano di raggiungere Fusun, prima di allontanarsi frettolosamente. La scena si sposta su Fusun in attesa in un caffè, con pensieri che si aggrovigliano nella sua mente. Quando Sermin si unisce a lei, le rivela l'accaduto, e insieme cominciano a formulare congetture. Fusun, con un'intuizione acuta, ipotizza che Umit e Sevda possano essere imparentate, notando somiglianze nei loro tratti. Sermin, da prima scettica, vacilla davanti a questa supposizione, ma Fusun persiste, proponendo di approfondire le indagini. Elaborano un piano astuto. Recarsi all'ufficio del sindaco per ottenere l'estratto di nascita di Umit, mascherando il loro intento con l'acquisto di dolci per il sindaco, in un tentativo di rendere la richiesta più accettabile. Intanto, ci spostiamo su Zuleya, che si confronta con il detective Sadi. Con tono serio e pregnante, Sadi la interroga sul suo proposito di compiere un'azione così drastica, sottolineando che la scelta è irreversibile. Zuleya, con risolutezza incrollabile, dichiara di aver già dato una seconda opportunità a Demir, ma lui ha dilapidato ogni cosa tradendola con Umit. Le sue parole sono cariche di un dolore intenso, come un fiume in piena. All'improvviso, una macchina raffinata si ferma davanti a loro e ne scende un avvocato dall'aspetto severo e professionale. Sadi, con uno sguardo acuto e indagatore, rivolge a Zuleya un'ultima domanda cruciale, chiedendole se è veramente convinta della sua decisione. Zuleya, con un gesto risoluto e senza esitazione, conferma il suo intento di vendere il 25% delle sue azioni dell'azienda Yaman. L'avvocato, interrogato sulla figura dell'acquirente, risponde con un tono enigmatico e riservato, sottolineando che per ragioni di confidenzialità non può svelarne l'identità. La scena si sposta su Zuleya che, con un mix di fermezza e incertezza, appone la sua firma sull'accordo e riceve un assegno e contanti per la vendita delle sue azioni. La notte avvolge Villa Yaman e diventiamo testimoni di uno scambio intenso e carico di emozioni tra Demir e Zuleya. Il volto di Zuleya, teso e perplesso, fa immediatamente intuire a Demir che qualcosa turba la sua pace. Vediamo Zuleya porre domande sempre più incalzanti, cercando di spingere Demir a confessare la sua relazione con Umit. Zuleya lo accusa di non aver mostrato disapprovazione nei confronti di Umit per averlo incolpato del suo incidente e non riesce a comprendere perché Demir sembri quasi difenderla. La sua frustrazione si intensifica mentre cerca di far emergere la verità da Demir, che però risponde in modo sfuggente e evasivo. Fuori dalla porta, Sevda ascolta in silenzio tutta la conversazione, catturando ogni parola. Demir esplode, dichiarando con veemenza che non appena Umit sarà fuori dall'ospedale, farà in modo che paghi per ciò che ha fatto alla famiglia Yaman. Sevda, agitata e preoccupata, si precipita in ospedale per trovare Umit, ma scopre che la stanza è desolatamente vuota. L'infermiera le informa che la dottoressa Umit è uscita per prendere una boccata d'aria. La scena si sposta poi su Fikret e Umit, immersi in un confronto cruciale. Umit confessa il suo desiderio di vendicarsi di Demir, ammettendo di essere troppo innamorata e di voler che lui provi il dolore che lei sta sopportando. Chiede a Fikret se è disposto a sacrificare il suo amore per Mujgan per portare avanti la loro vendetta. Fikret, con un viso segnato dal conflitto interiore, accetta di proseguire con il piano, ma pone come condizione che da quel momento in poi non ci saranno più inganni. Da lontano, una Mujgan in lacrime osserva la scena, realizzando che tra Umit e Fikret persiste un legame oscuro e inconfessato, un legame che minaccia di distruggere tutto ciò che hanno costruito fino ad ora. La tensione sale ulteriormente quando Sevda si incontra con Umit, portando notizie inquietanti. Rivela di aver origliato una conversazione tra Zuleyha e Demir, in cui lo Yaman minacciava vendetta contro Umit. Ma Umit, con un sorriso carico di sfida, ribatte che è Demir a dover temere, poiché la sua sete di vendetta è inestinguibile. La scena si sposta in ufficio, dove Umit, dopo aver superato le resistenze della segretaria, fa irruzione nell'ufficio di Demir. Qui, tra le pareti di quel luogo simbolo di decisioni e potere, si svolge un dialogo teso e carico di emozioni. Demir, con un misto di rimorso e frustrazione, si scusa per aver illuso Umit, promettendole un futuro insieme. Umit, con gli occhi lucidi di speranza, insiste che il loro amore merita una seconda possibilità, sottolineando che i suoi sentimenti sono più profondi e autentici di quelli che Zuleyha potrebbe ancora nutrire per Yilmaz. Demir, tuttavia, esplode in un accesso di rabbia, urlando contro Umit di smetterla di rovinare la sua vita e la caccia via dal suo ufficio in modo brusco e irrevocabile. Umit, profondamente turbata, guida verso casa, ma ciò che la attende la lascia senza parole. Le sue valigie, ammassate fuori dalla porta, sembrano un presagio di sventura. Confusa e allarmata, cerca di decifrare il caos quando Zuleyha appare, imponente, sulla soglia. Umit, con un misto di incredulità e disperazione, chiede spiegazioni. Zuleyha, con un tono di sfida che taglia l'aria come una lama, le dice che non può più tollerare la sua presenza in casa dopo tutto ciò che è accaduto. Umit accetta la realtà di fronte a sé, ma Zuleyha non si ferma qui, accusandola di aver sedotto Demir con astuzia e inganno. Umit, con uno sguardo che sfida ogni ostacolo, ribatte che il suo amore per Demir è genuino e sincero. Ma Zuleyha, con una voce che risuona tagliente e irremovibile, la accusa di essere una donna infelice che ha sfruttato un uomo nel suo momento di debolezza. Zuleyha le rimprovera di aver tradito la sua fiducia dopo essere stata accolta nella sua casa con generosità. Umit, tuttavia, non si lascia intimidire e rivela di essere stata da Demir poco prima, sostenendo che tra loro c'è ancora un legame inconfessabile. Zuleyha, con un sorriso carico di amarezza, le risponde che può continuare a illudersi, prendendo le chiavi e dicendole che dovrà trovare un nuovo rifugio per il suo cuore infranto. In una giornata che sembrava come tante altre all'ospedale di Adana, Mushgan, con un misto di determinazione e malinconia nei suoi occhi, prende una decisione che cambierà per sempre il corso della sua vita. Si dimette. Aikut, il suo collega e amico di lunga data, la guarda con un'espressione che mescola sorpresa e preoccupazione. Sei sicura di questa tua decisione? Le chiede, la voce tremante leggermente. Mushgan, con un sorriso triste, annuisce. Ho riflettuto a lungo, dice, e sono sicura, è tempo di voltare pagina. Aikut, il loro supervisore, interviene, sottolineando quanto la sua partenza sia improvvisa. Mushgan, con una calma che nasconde il tumulto interiore, spiega che la decisione non è stata affatto improvvisa. Parla del dolore e delle difficoltà che ha affrontato, del peso che ha portato per troppo tempo. Avrei dovuto andarmene molto prima, conclude con un filo di voce. Nel frattempo, in un ambiente domestico caldo e accogliente, Lutfi e Fekeli condividono momenti felici con Cerem, il figlio di Mushgan. La loro serenità familiare viene interrotta dall'arrivo di Mushgan, che porta con sé un'aria di cambiamento. Saluta affettuosamente il figlio e poi, con una voce che cerca di essere allegra, condivide la notizia delle sue dimissioni, già accettate da Ikut. L'augurio di buona fortuna da parte di tutti è sincero e Mushgan, con un sorriso che illumina il suo volto, esprime la sua felicità e parla con entusiasmo del suo nuovo inizio a Istanbul. Fekeli si offre di aiutarla in questo nuovo capitolo della sua vita, offrendole una casa di sua proprietà a Istanbul. Mushgan, tuttavia, rifiuta gentilmente, insistendo sul suo desiderio di fare tutto da sola. Dopo un breve scambio di battute, Fekeli accetta la sua decisione e le promette di parlare con un agente immobiliare per aiutarla. La incoraggia anche a considerare l'apertura di un proprio ospedale in futuro, un sogno che Mushgan ha sempre avuto nel cuore. Il giorno seguente, Batijar e Fikret si trovano a pranzare insieme in un'atmosfera tesa e carica di emozioni non dette. Batijar cerca di convincere Fikret a smettere di tormentarsi per Demir, sottolineando come questa ossessione stia rovinando la sua vita. Fikret, con un'espressione di rassegnazione, ammette di non aver mai avuto la possibilità di essere felice. Batijar allora ricorda a Fikret di Mushgan, che aveva proposto di lasciare tutto alle spalle e iniziare una nuova vita insieme. Fikret però è irremovibile, non può stare con lei finché non avrà regolato i conti con Demir. Promette che una volta concluso tutto, tornerà da Mushgan. Batijar, con un tono di voce che tradisce la sua delusione, Gigli rivela che è troppo tardi. Mushgan partirà per Istanbul. Fikret, colto da un senso di urgenza, si precipita a comprare un anello di fidanzamento, ma quando arriva a casa di Fekeli, scopre che non c'è nessuno. Tutti sono già partiti per accompagnare Mushgan all'aeroporto. Realizzando che lei partirà quel giorno stesso, parte in macchina in una corsa contro il tempo. Mushgan, nel frattempo, saluta il figlio, lasciandolo con Fekeli finché non si sarà stabilita a Istanbul. Condivide un momento tenero e commovente con il figlio, regalandogli il suo fazzoletto per ricordarla nei giorni in cui non saranno insieme. Prima di imbarcarsi sull'aereo, Fekeli la chiama per esprimerle il suo affetto e Mushgan risponde con un bacio. Fikret, guidando freneticamente verso l'aeroporto, prega che Mushgan non sia ancora partita. È deciso a scegliere lei e il suo amore piuttosto che la vendetta contro Demir, ma con il cuore spezzato vede l'aereo partire in lontananza e guarda con tristezza l'anello di fidanzamento che aveva acquistato per lei. Più tardi, Fekeli e Gili altri parlano allegramente mentre si occupano di Cerem. Quando Fikret arriva e chiede di Mushgan, i due spiegano che è andata ad affittare una casa e che presto porterà Cerem con sé. Fikret, incuriosito, chiede quando Mushgan tornerà a prendere Cerem. In quel momento, Fikret mostra loro l'anello, rivelando il suo piano di chiederle di sposarlo. Ma è troppo tardi. Mushgan ha già sofferto troppo a causa della sua sete di vendetta. Fikret, con un misto di determinazione e rimorso, giura che non le farà più del male. Ha deciso di rinunciare alla sua vendetta perché il suo amore per Mushgan è più grande di qualsiasi altra cosa. Tutto ciò che vuole è che lei accetti la sua proposta. Ma ormai Mushgan è diretta a Istanbul e lui dichiara che vivrà ovunque lei voglia, purché possano essere insieme e felici. Fekeli e Lutfi sostengono Fikret in questo momento di svolta emotiva. Dopo essersi abbracciati, ascoltano il notiziario alla radio. Fikret alza il volume e scoprono che l'aereo partito da Adana e diretto a Istanbul si è schiantato. Non ci sono sopravvissuti. Tra i nomi delle persone importanti a bordo viene menzionato anche quello di Mushgan. Tutti sono scioccati e crollano alla notizia. Il dolore e la disperazione si dipingono sui loro volti mentre l'aria si riempie di un silenzio assordante. Fikret con gli occhi fissi sul notiziario sente il mondo crollargli addosso. La disperazione lo avvolge come un mantello pesante. L'anello di fidanzamento nella sua mano sembra bruciare un simbolo di un futuro che non avrà mai luogo. I suoi sogni le sue speranze tutto svanito in un istante. Si rende conto con un dolore lancinante che la sua vendetta non solo gli ha portato sofferenza ma ha anche distrutto la possibilità di una vita felice con Mushgan. Fekeli con gli occhi lucidi di lacrime cerca di consolare Kerem che non capisce appieno la gravità della situazione ma sente la tristezza che pervade la stanza. Lutfi e gli altri cercano di confortarsi a vicenda ma le parole sembrano inutili di fronte a una tragedia così grande. Nel frattempo la notizia dell'incidente aereo si diffonde rapidamente lasciando una scia di dolore e incredulità. Amici, colleghi e conoscenti di Mushgan sono sconvolti dalla notizia. L'ospedale di Adana dove Mushgan ha lavorato per tanti anni diventa un luogo di lutto con colleghi e pazienti che ricordano la sua dedizione la sua gentilezza e il suo spirito indomito. Fikret si rende conto che la vendetta per quanto possa sembrare giustificata porta solo dolore e distruzione decide con un cuore pesante di abbandonare la sua ricerca di vendetta e di dedicare la sua vita a onorare la memoria di Mushgan promettendo di vivere in un modo che lei avrebbe approvato. Mentre la trama si dipana Zuleya prende una decisione drastica in preda all'angoscia si dirige alla casa di Gulten e Chetan cercando il loro aiuto per una fuga precipitosa con determinazione spiega loro il suo piano ha già recuperato i passaporti per lei e i suoi figli da Sadi e ora ha bisogno del loro aiuto per lasciare tutto alle spalle Zuleya chiede a Gulten e Chetan di portare le sue valigie al porto di Mersin il giorno successivo i due compresi della gravità e urgenza della situazione accettano di aiutarla comprendendo che questa potrebbe essere l'unica via di fuga per Zuleya e i suoi figli da una vita diventata insopportabile per attuare il suo piano di fuga Zuleya necessita dell'assistenza di Sadi che agirà come intermediario nella vendita delle quote della società Yaman a nome di Zuleya inoltre Sadi si occuperà di procurare i passaporti per lei e i suoi figli la prima tappa del suo viaggio verso la libertà sarà Cipro per poi stabilirsi definitivamente in un altro paese europeo Demir ignaro del tumulto interiore di Zuleya continua la sua routine quotidiana salutandola ogni mattina prima di recarsi al lavoro senza sospettare del piano che lei sta architettando l'unica a intuire che qualcosa sta per cambiare è Sevda Zuleya sotto la pressione di Sevda rivela il motivo della sua fuga inizialmente cerca di mascherare la verità ma Sevda non convinta la segue fino alla camera da letto qui Sevda scopre Zuleya intenta a preparare le valigie e nota anche i passaporti a quel punto Zuleya non può più nascondere la sua intenzione di fuggire lascio Demir e parto per Cipro Sevda incredula ascolta Zuleya spiegare che la sua decisione è stata spinta dalla scoperta dell'infedeltà di Demir Sevda tenta di persuaderla a confrontarsi con Demir per cercare una soluzione ma Zuleya è irremovibile nella sua decisione di non perdonarlo e di iniziare una nuova vita altrove Sevda teme che Zuleya possa commettere un grave errore e che possa pentirsene in futuro inoltre Sevda è consapevole che una volta scoperta la fuga Demir non esiterà a cercare Zuleya e le conseguenze potrebbero essere imprevedibili Zuleya la implora di mantenere il segreto ma rimane il dubbio se Sevda sarà in grado di custodire questo pesante fardello Sevda travolta da un conflitto interiore alla fine decide di rivelare a Demir i piani di fuga di Zuleya la notizia scuote Demir fino al midollo spingendolo a correre disperatamente verso il porto nella speranza di intercettare Zuleya prima che sia troppo tardi tuttavia il destino gioca contro di lui la sorveglianza del porto lo ferma impedendogli di raggiungere la moglie Zuleya con gli occhi annebbiati dalle lacrime si allontana in silenzio lasciando Demir avvolto in un mantello di rimorso e determinazione a ritrovare l'amore perduto tornato alla villa Demir in preda alla frustrazione affronta Gulten rimproverandola aspramente per non averlo informato della partenza di Zuleya quando Gulten non riesce a fornirgli informazioni sul luogo in cui si trova Zuleya Demir si infuria minacciando di cacciarla dalla villa ma Gulten con un coraggio inaspettato gli tiene testa svelandogli le ragioni che hanno spinto Zuleya a lasciare iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su ogni svolta di questa avvincente saga grazie per aver seguito e a presto con nuove emozionanti rivelazioni